Un lungo e mesto corteo si è snodato questa mattina dalla camera ardente allestita nei locali del comando della Polizia Municipale in via Dogali fino alla chiesa di San Giuseppe nel cuore del quartiere di Passo di Rigano. A rendere omaggio a Mirko Vicari, il vigile urbano 38enne, morto tre giorni fa, tanti suoi colleghi, amici e familiari. In chiesa anche alcuni rappresentanti delle istituzioni. La morte di Vicari però rimane avvolta nel mistero. Attualmente l'unica certezza è che l'uomo sarebbe stato ucciso da un solo colpo partito dall'arma d'ordinanza, una berretta calibro 9, sparato dall'alto verso il basso. Questo sarebbe emerso dall'autopsia eseguita ieri sul cadavere dal professore Paolo Procaccianti, direttore dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Nel frattempo proseguono le indagini nella sezione omicidi e la squadra mobile e nessuna pista viene esclusa. Nelle prime ore le ipotesi più accreditate dagli investigatori sono state due. L'omicidio a scopo di rapina o la vendetta per motivi professionali. Ma in base all'esame autoptico, dal quale risulta che non ci sarebbero segni di colluttazione, la prima strada, ovvero l'omicidio per rapina, per il momento potrebbe essere accantonata. Per seguirne invece una che nell'ultima ora si sta facendo avanti. Infatti, secondo due colleghe, sentite pure dai magistrati, Vicari avrebbe parlato delle sue difficoltà economiche di un uomo diversiato e di genitore che faceva fatica ad andare avanti con lo stipendio di vigile precario e avrebbe pure detto di volersi uccidere mettendo in scena un omicidio. Tra l'altro, Vicari, per arrotondare, faceva anche il vigilante sia in un centro commerciale nei pressi della sua abitazione ad Altarello. Si indaga anche sull'incarico specifico che Vicari aveva all'interno del comando della Polizia Municipale, quello relativo ai controlli sull'abusivismo commerciale. Si cerca di capire se qualcuno infastidito all'operato del vigile abbia organizzato una vera spedizione punitiva per eliminarlo.